Regola numero 1 a Wall Street Nessuno Ok, se sei Warren Buffett, allora forse sì Nessuno sa se la borsa va su, giù, di lato, in circolo, ok? Eh sì, è proprio così Ed è per questo che si applica la strategia WeWin Spesso ne avete sentito parlare su questo canale Molti di voi la conoscono e la stanno applicando bene, spero Ma nei commenti credo che molti l'hanno applicata bene Andando in giro sui social, invece, parecchie persone al momento si sono Sono fatte piuttosto male Quindi con voi oggi ci tenevo a rivedere un attimo la strategia WeWin Perché vi sarà sicuramente utile nei prossimi mesi barra anni E diamo un recap al mercato Partiamo da Standard & Poor's con un po' che non lo vediamo Cosa è successo nelle ultime settimane mentre il Bitcoin in FOMO etf Lo Standard & Poor's è andato a scaricare Ma è uno scarico regolare senza grossi problemi Vedete, scarica ma non è un dump così unico che crea panico Ma al momento un downtrend senza particolari crash Oggi è in leggero rimbalzo ma ci sta Siamo in area di ipervenduto Sarà molto interessante poi a vedere un po' come chiuderà questo mese Perché dicembre è solitamente il mese dove c'è il rally natalizio Vediamo se anche quest'anno riesce a farlo Più rimane in area ipervenduto più ci sarà la possibilità di andare in rally prenatalizio Però per il resto il momento sullo Standard & Poor's cambia niente Se non che la zona di interesse Adesso non so perché sono sparite tutte le mie trendline eccetera Ma non importa in quanto la zona di interesse rimane intorno ai 3.800-4.000 Non domani mattina ovviamente Ma o nel mese di novembre o successivamente con l'inizio del prossimo anno Quindi direi al momento una situazione in media con le aspettative Con un'economia che rallenta e nessun dramma in alto Per Bitcoin invece cosa sta succedendo? Bitcoin ha tenuto molto bene anche questa settimana Se vedete ha chiuso le due settimane Chiamiamole ormai FOMO BlackRock Attendiamo se arriveranno delle nuove notizie all'inizio di questo mese Quindi BlackRock che può annunciare la fine del fondo Preseed Che è quello che ha fatto muovere il mercato Fine nel senso che sia pronto O la notizia che tutti si aspettano E cioè che la SEC vada a dare l'ok all'ETF Attenzione che settimanale e giornaliero ancora di più Siamo già con l'RSI in iper Comprato addirittura sul giornaliero da parecchio tempo Quello che sta succedendo al momento è che ovviamente Nessuno che ha comprato va a vendere In quanto gli acquisti sono stati fatti per la maggior parte delle persone Tranne i trader intraday sostanzialmente Proprio in ottica di una notizia da parte della SEC Io stesso quello che ho comprato che ne abbiamo parlato la scorsa settimana Non ho la minima intenzione di andare a toccarlo Sul giornaliero Bitcoin è più che bello sta facendo supporto nell'area dei 33.000 Molto molto forte in quanto siamo lontani da qualsiasi media A vederlo così sarebbe da ripartire e andare sopra i 36.000 Quello che al momento frena un po' tutto è questo E' veramente tanto in area di ipercomprato E i volumi come vedete stanno scendendo Perché? Perché la maggior parte dei trader Si aspetta che il Bitcoin vada a testare almeno questa media O il supporto dei 32 32,5, 31 c'è più o meno Quello che ho detto l'altra volta Si va a testare quest'area Quindi sostanzialmente volumi in calo Perché i trader sono fermi I retail che devono comprare hanno comprato Quindi o arriva una notizia e ci dà un ulteriore slancio O altrimenti si attende che il Bitcoin vada O a lateralizzare in modo veramente noioso su queste aree Vada a scaricare l'RSI giornaliero settimanale Sui time frame più bassi Faccia arrivare su tutte le medie Oppure di uno scarico, testi e vediamo che cosa succede E anche sulle altre più o meno il discorso è lo stesso Molte si sono mosse E sono mosse in seguito a Bitcoin Che un po' di più, che un po' di meno Quasi tutte hanno l'RSI in area di ipercomprato E tutti quanti siamo in attesa di un'ulteriore mossa Ma come giusto che sia Se voi andate long adesso per esempio E tirate la monetina e dire Boh, arriverà una nuova notizia È un po' d'azzardo In quanto il posizionamento andava fatto prima E adesso ne parliamo con la strategia win-win Ma prima di parlare di questa strategia Per quanto riguarda la VPN non abbiamo di questi problemi In quanto NordVPN è la soluzione win-win per aumentare la protezione sui nostri dispositivi E proprio l'altro giorno mi sono imbattuto su questa notizia È stato raggiunto il record di dati rubati in circolazione al momento sul dark web Cosa che non mi stupisce perché è lì dove vanno a confluire tutti i dati che vengono rubati agli utenti Per poi utilizzarli in maniera illegittima O per confezionare campagne di phishing ad hoc Con NordVPN abbiamo una protezione aggiuntiva Grazie al dark web monitor Abbiamo anche una ricerca regolare delle nostre informazioni Nei luoghi del dark web In cui queste informazioni vengono scambiate e vendute Quindi abbiamo anche questo controllo aggiuntivo che non è una cosa da poco Vi invito a provare NordVPN accedendo dal link sottostante In questo modo oltre all'offerta dedicata al canale Sui piani biennali avrete 4 mesi in ovaggio Sempre con la politica 30 giorni soddisfatti o rimborsati Che è una politica win-win E come vi ho detto più volte che cos'è il win-win? È trovarsi in quella situazione, in un mercato Che vi permette di essere sereni Qualsiasi direzione prenda il mercato Detto così sembra facile Non vuol dire essere sempre 50-50 dentro il mercato Perché andreste a perdere numerose occasioni in certe situazioni Ad esempio quando il mercato è completamente asfaltato E in altri andate a perdere parecchi soldi Come per esempio dopo un anno e mezzo Che tutto vola, tutto è moon, tutto è un palo verticale Rimanere 50-50 rischiate di prendere una bella trambata su metà del wallet Quindi come funziona la strategia win-win? Prima di tutto a memoria l'intro Una volta che avrete bene in testa l'intro State tranquilli che il vostro profilo di investitore come guadagni migliorerà parecchio Gestione di se stessi Questo è molto importante Cosa significa? In base al vostro carattere e la vostra gestione delle emozioni Dovrete gestire le percentuali che per voi sono win-win Se vi ricordate, come sono fatto io quando ne abbiamo parlato nella puntata di agosto Che parlavamo se dovesse arrivare un ETF spot C'è un'approvazione di ETF spot Io all'epoca ero messo 40% in Bitcoin Resto in stablecoin Ma andava benissimo anche se il trend era discendente Perché se fosse uscita una notizia improvvisa su un'approvazione ETF di BlackRock Poi al momento non è arrivata quella notizia, ne è arrivata un'altra Però il risultato è già molto simile Io avrei avuto una bella parte in Bitcoin già a mercato che saliva Le altcoin laggano in questa situazione Quindi avrei potuto poi comprare le altcoin Che tra l'altro, quando poi è arrivata adesso la notizia Una decina di giorni fa circa, erano anche sui minimi Quindi la strategia win-win ha funzionato perfettamente Questo è quello che intendevo io Peralti magari era essere al 60% o essere al 30% Dipende un po' da voi e dalla gestione delle emozioni Come vi ho detto in Arsenale Cripto Trovate il link sottostante Il grosso del successo dei vostri investimenti deriva dalla gestione delle emozioni Ricordatevelo In quel corso ne ho parlato ampiamente Perché credo che sia la parte più importante in qualsiasi investimento Dopodiché, sull'asset in cui investite Adesso stiamo parlando di Bitcoin Ricordatevi la ciclica, se ce l'ha quell'asset Ma benedamente ce l'hanno tutti Il Bitcoin è quello relativamente più facile come ciclica Sappiamo che ci sono dei momenti che è meglio uscirsene dal mercato Il classico anno e mezzo più o meno dopo l'Alvin Sappiamo che ci sono dei momenti che non è male avere il wallet bello pieno 3-4 mesi prima dell'Alvin solitamente Poi in questo ciclo abbiamo anche la particolarità che complica un po' Della questione ETF Ma quello ne abbiamo appena parlato adesso col mio esempio E ne abbiamo parlato molte volte in passato E questi tre punti sostanzialmente sono quelli che vi permettono di creare la strategia win-win Ho anche messo una nota sull'analisi tecnica In quanto non è completamente inutile Ma l'analisi tecnica vi sterilizza le emozioni Vi fa vedere se a grafico c'è un downtrend o a grafico c'è un uptrend Può darci dei livelli interessanti per capire come si muoverà il prezzo Ma ricordatevi che non è infallibile Anzi, per quello si usa questa strategia Purtroppo noi abbiamo una asimmetria informativa Ricordatevelo sempre Quindi noi non sappiamo le notizie in tempo reale o quasi in tempo reale Ma soltanto successivamente E magari anche quando gli effetti sono già avvenuti al mercato Perché chissà le notizie inizia a vendere o a comprare giorni prima Che è un po' quello che è successo sulla fake news dell'etf Andate su, siamo scesi Stranamente il prezzo ha recuperato tutta la candela Della fake news Non si capiva perché E poi abbiamo capito perché E questa è la motivazione principale Per cui se voi Vi create una strategia Win-win Vi assicuro che vivrete molto bene l'investimento Soprattutto sarete anche più lucidi Non avrete stress che è lo stress che vi fa comprare o vendere in preda al panico E poi fare dei disastri disumani sui wallet Spero che questo concetto che ne ho parlato da anni Vi sia ben chiaro Oggi l'abbiamo rivisto nel dettaglio E per esperienza personale posso assicurarvi che funziona molto molto bene come strategia Ed è vero che non è una strategia per strafare Sono completamente fuori, sono completamente dentro Per cogliere al mille per mille le opportunità Però vi evita Proprio a causa della simmetria informativa Di prenderlo in quel posto a volte Quel posto A o quel posto B Dipende dalla situazione di mercato Bene con oggi ho concluso questa puntata Ci aggiorniamo poi verso fine settimana Probabilmente o nel weekend Un saluto da Alberto Di prenderlo in quel posto